Da Borgo Panigale arriva una delle moto più attese a ECMA 2013, il nuovo Monster, in versione 1200 e 1200S, la storica naked emiliana che ritorna alle origini ma si evolve tecnologicamente grazie all'arrivo del motore bicilindrico testa stretta a 11 gradi, declinato in due versioni da 135 o 145 CV per la S, oltre all'elettronica più evoluta sviluppata dalla casa bolognese. Allo stand a Ducati, riflettori puntati ovviamente anche sulle super sportive, grazie alla presenza della nuova 1199 in versione super leggera da 200 CV e della 899 Panigale, trampolino d'ingresso della gamma sportiva del costruttore bolognese. Grazie a tutti.